Dottori, amici, colleghi, ci siamo! Yes, sir! Sì, giochiamo trash ragazzi che non abbiamo perso un game mode. Ma come contro Terenas? Ma come contro l'apo? Ma come contro l'apo, signori? Ma dove cazzo ho droppato? No ragazzi, se mi batte Terenas impazzisca. No ragazzi, no, no. Eh, non ho la chat vocale, porco, non ho la chat per scrivergli. Maio, voi... È live? Ma posso giocare contro l'apo? L'ultima delle umiliazioni. Stompa sto cazzo di Terenas. Perdo sto game impazzisco, signori. Ragazzi, ragazzi, perdonatemi il tryhard. Gister, se perde contro Terenas, non subbo mai più. Eh, fai bene. È bello che me lo dice sabbando. È quello il bello, signori, ah! Se sei forte, sali. Oh no. Qua abbiamo Praio. Molto buono, ragazzi, come si stanno comportando. È un hash contro, ragazzi. Sappiamo che le hash rompono sempre il cazzo. Facciamo attenzione a Kazix. Ciao Magister. 13 come le sue morti di questo come? 13 come i minuti in cui inizierà a spammare FF. 13 come gli anni in cui mia cugina perse la verginità da Don Pietro. Primo sangue. Perché veramente c'è l'apo? 4. Fa l'apo. No, l'apo! No, l'apo ti prego. Guarda. Ti giuro, sto Dio, che se l'apo mi ammazzava romando da top al 3 con Horn, impazzivo. Ha fatto un movimento molto interessante il l'apo, ragazzi, eh? Al limite dell'inting. Dangle. Vinta. Obbligati alle mercoli, ragazzi. Dai. Twisted Fate, Leona. Capite? Sì, sto costando l'apo sul secondo schermo, ragazzi. In questo momento lo sto guardando, eh? Flash di Twisted Fate. Preso. Mandato indietro il mid laner. Fatto flashare. Preso sul flash. Classico. Facile. Ok. È un po' meno facile. Mi lato Leona God. God, signori, God. Fatto flashare il mid. Quel mid, ragazzi, ora si può bussare. Lì! Lì, Cristo Dio! È Sibola! Orlì. Locroppa. Chimia di merda! Zuko! Fire Nation! Sono tutti l'HP in Bottling. Ti vuoi svegliare? Infusione di colpi. Sopravviviamo al Gang di Kha'Zix e all'Ulti di Twisted Fate. Mi aspetto di vedere un team umano. Che c'è l'Arrow, questo figlio di puttana qua, già al 6. Farla partire su un gank di Kha'Zix. Io qua, ragazzi, me ne vado in spawn, sapendo che abbiamo fatto perdere tempo a Kha'Zix, sapendo che TF ha usato altre risorse per noi. Stiamo impattando la mappa in modo molto solido. Qui, ragazzi, vado di velo costante. Hanno doppia frontline, capite? No, si arriva al Kha'Zix. Esa, asce, fuori dal cazzo. E le una. Se ne va con lei. Perfetto. Vinta bot, vinta jungle, vinta myth. L'unica lane che non ho vinto è la top lane. Dove c'è l'apo? Quindi mi aspetto che sia vinta di default. Cariacela l'apo, cariala. Grazie l'apo, sempre il... Vedo se tira l'era il figlio di trova di Kha'Zix. Ritorno qui, ragazzi, in corsia centrale. Ah, se riesco a rompere il cazzo a TF. Eh? Ecco, sto levando una ward, eh. Non ti ho ucciso il Nexus. Attenzione all'ulti di TF. Non voglio più giocare sideline in questo momento. Asce non ha la freccia. Kha'Zix bot, l'insportato. Visto dalla minimappa. Hanno vision, hanno ward. Ho solo, ragazzi, che se vado oltre questa metà mi piomba il cartolaio matto. Ulti into carta gialla e non posso farci proprio un cazzo, capite? Ci sono così tanti tivi. Dicto. Dicto. Foud. Spaggare. Spada. Evitato il gank di Kha'Zix. Predictato il salto di Kha'Zix. Siamo ancora in piedi. Erad in bot, l'invito di Kha'Zix. Cercano, ragazzi, di mandarci indietro in tutti i modi. Stanno usando tutte le risorse qui. Torre è ancora viva. Molto buono. Abbiamo impattato tutta la mappa, ragazzi. Io mi levo dalle palle. Smarfala, Lapo! Smarfala per noi! Smarfala per noi, Lapo! Smarfala! Smarfala per tutti noi! Andiamo. Dacci stile P! Due drag a zero. Boltrin, ragazzi, sta dominando sia di movimenti che di corsia. Tv Kong poteva venire con il flash caldo. Perfetto. Kong sarà gigantesco. Questo item qui pure è broken. Possi. Dai, vattene. Vincere! E lo faremo! Sono il più forte! Molto bene, signori. Muy bien! La torre rimane ancora viva. Completamente. Uno di nove. Come vi ho abituato, signori. Come sempre. Non compro pink, non mi servono, ragazzi. Loutan Kenshin top con priorità. Tre minuti al drago. Abbiamo l'era per saprire la mappa. Stiamo giocando. Molto, molto, molto bene. se flashe. Se flasha... Se flasha... Lo so ma lo faccio lo stesso Era una merda quella play La torre aveva un HP La torre aveva uno di vita Perché devo giocare per prendere per il culo I figli di troia Roaming verso bot Che c'è il drago Perché perdo Perché sono così forte Che mi fermo al loro livello E mi abbasso Ma l'ho sempre detto ragazzi Il mio problema è che sono troppo forte Il drago è l'obiettivo da fare E' il terzo drago Mamma mia che movimento Si vede che sono al diamond Chiaramente ragazzi vinciamo Qui ragazzi l'appo ha bellissimente trollato Tutto il target Non può ultare e fare una combo su di me Ragazzi non esiste Non è il compito di un top laner Perfetto signori qua Te la butto io Mi fa andare giù sto fingio di puttana di lapo Caffetteria di merda Olandese del cazzo E facilmente Il magister 1v9 Facile signori Facile Qua l'abbiamo ultra smarfata Se sei forte sali Vincere e lo faremo Molto molto bene signori Guarda Il classico caso Di support gap Si può dire così Ragazzi se perdevo la terena Potevate Ansabbare il canale E sabbare la lapo da parte mia Basta Focussare me Oh Tercage Mangiami Mangiami Qua ragazzi Ho fatto una magia Quel mio hook Sul predict flash Di Kha'Zix In peel Era magia Poesia Poesia pura Signori Poesia pura Scriviamo giù la seconda torre Del Nexus Non credo Wukong gigantesco Perché io ho killato Kha'Zix Al 2 Oh no Flame Vale Uno è morto Ragazzi Vorrei fare un po' di DPS Sulla torre Ma non credo C'è affattura Tutto ricco Il mio hook Arriverà Sulle 1 Basta farmi le carte gialle Di merda Cado il TF Lapo che sta ballando Lapo che balla Signori Un applauso per favore A Terenas Ma quest'oggi Signori Può esserci Ma che questo Tutti i giorni C'è sempre Solo un vincitore In caso Ricapiterà questo sconto È sempre Solo un vincitore Nulla da dire Per essere un caster Non ha giocato male A League of Legends Ragazzi Non è male Ragazzi È difficile Saper giocare E saper parlare Game Non semplice Soprattutto Mentre gioca Con gente Contro gente Che ha commentato Per anni Signori Ci vediamo